ecco qua il PSV ha la seconda vittoria che c'ha da dirci il capitano? è stata una bella partita sudata, sofferta comunque grandi giocatori e grandi spirito di squadra è importante un applauso al trippa un applauso al trippa bella trippa un applauso a Enrico ci ha fatto a Vittorio